Musica Sera amici di Assisti Sportivo, ci troviamo qui con il dirigente Michele Rigno, dirigente della Libera Virtus. Ecco, una giocatrice e il suo sforzo si vede dal campo, ma dalla società invece è fuori dal campo. Ecco, dottore, ci può fare un bilancio stagionale della Libera Virtus di quest'anno, in un anno di vita che siete nati? Senz'altro un anno sportivo positivo, considerando i presupposti di partenza, una squadra completamente nuova, con un coach nuovo, con tante ragazze nuove, aver raggiunto i play-off per la Serie B penso che sia una cosa importantissima, non a livello solo della nostra società, ma anche a livello proprio sportivo di Vole e Cerignola. Chi ho ricordi, nessuna squadra di Vole, né nel campo maschile e famiglia, mai giocato dei play-off per una Serie B, per un campionato nazionale. E questo ci fa molto, ma molto piacere. Ecco, le volevo dire, quest'anno voi avete raggiunto, il vostro primo anno, come ho già detto, avete raggiunto i play-off. I tifosi hanno già incominciato a sognare, già assaporano per l'anno prossimo una cavalcata storica, forse per salire ancora di più nelle categorie superiori. Siete rappresentate la vetta. Ecco, cosa ci può dire a merito? Cosa può promettere ai tifosi per l'anno che verrà? Con il coach Drago e di Lucia abbiamo già stabilito un programma triennale, già la scorsa estate, un programma sportivo che prevede una crescita graduale della squadra di pallavolo. Quindi noi speriamo e faremo di tutto per allestire una squadra competitiva. Però come in tutti gli sport, il campo è un giudice molto severo. Quindi dovremmo fare i conti sempre con il campo ed una serie di variabili, perché come per l'algebra, la matematica e il risultato sportivo, è frutto di una serie di variabili, che sono lo spogliatoio, la forma, la condizione atletica, psicologica, il gruppo, variabili che non possono essere messe in risalto a inizio campionato. Quindi noi faremo di tutto per allestire una squadra competitiva. Poi sarà il campo, ripeto, il tempo a darci ragione o meno. Ci sono squadre che hanno speso tanto, non solo in campo di pallavolo, ma anche in altri sport, i risultati non sono stati ottimali. Quindi fare i proclami non ha senso. Noi promettiamo, come da programma sportivo, con i nostri allenatori, di fare una squadra competitiva e di migliorare un risultato sportivo fatto quest'anno. È stata già una cosa molto complessa. Però la volontà c'è tutta. Rivedendo la stagione, rivedendo soprattutto le grandi partite che avete fatto, ricordiamo che avete vinto 3-2 col Modugno in questa stagione. Soprattutto ci sono state delle giocatrici che si sono distinte particolarmente, come Doronzo, come Rakanati, come anche la stessa schiacciatrice Binetti. Chi incoronerebbe come MVP della stagione, tra virgolette, ovviamente? Darei sicuramente uno sport di squadra, il merito è di un gruppo. Quindi sarebbe ingiusto mettere in prima stanza una giocatrice rispetto ad un'altra. Però se dovessi fare un nome, senza altro metteria al primo posto i nostri due allenatori, che hanno fatto un lavoro veramente incredibile. Quindi se il gruppo, se lo spogliatoio, se la squadra ha riso in questa maniera, se la Scarale, la Rakanati, la Binetti, la Brattoli hanno fatto ottime partite in merito loro, che hanno veramente speso tanto in quest'anno sportivo. Lei accennava al lavoro dei due allenatori. I due allenatori quest'anno hanno anche fatto un lavoro molto buono, anche nel settore giovanile. Ricordiamo che voi in un anno di vita avete avuto un boom di iscrizioni nel settore della pallavolo. Ci può fare un bilancio sul settore giovanile e sugli obiettivi prossimi del settore giovanile? Una squadra che ambisce un campionato nazionale senza altro deve avere dietro un settore giovanile valido ed efficiente. Essendo il primo anno abbiamo cercato di dare il massimo e quindi tutto sommato le iscrizioni sono state soddisfacenti e anche i risultati sportivi. Tutto sommato sono andati meglio di quello che avevamo previsto. Il settore giovanile noi punteremo come in qualsiasi società di volley importante al mini volley, dove i responsabili hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Mi piacerebbe menzionare la professoressa Fabrizio, il dirigente Mattio Bifaro, il dirigente Giuseppe Sparapano, che hanno fatto un lavoro incredibile dal punto di vista di gestione del mini volley, del settore giovanile e del nostro secondo allenatore, il coach di Lucia Cosimo, che ha dato una grossa mano per l'Under 14 e l'Under 16. Poi mi premiva anche ricordare un altro allenatore che ha dato tantissimo all'Under 14, ma già che lavorava con il nostro team negli altri anni, che è il signor Del Vecchio Giuseppe, che anche lui quest'anno ha fatto un bel lavoro con il suo gruppo. Il prossimo anno dovremo fare sicuramente meglio. Non può una squadra che ambisce un campionato nazionale in qualche modo non puntare sul settore giovanile. Quindi l'Under 14, l'Under 16, una prima divisione, il mini volley, sono gruppi che meritano tanta tanta attenzione. È come dire in un ospedale che hai un reparto ottimale e hai un pronto soccorso scadente. È inaccettabile. Il pronto soccorso dovrebbe essere il punto di prima accoglienza, dovrebbe accogliere gente competente, anche se nel nostro servizio sanitario nazionale è tutto l'inverso, ma in realtà dovrebbe essere così. Quindi il settore giovanile dovrebbe essere il nostro pronto soccorso, efficiente, lungimirante e attento. La prima squadra è uno specchietto per le bambine che vengono dietro. Lei ha accennato questa spettacolare stagione, soprattutto molti addetti ai lavori, anche da un punto di vista, ricordiamo, l'assessore Spione, l'assessore allo sport, ha ringraziato tutte le società sportive per questo anno sportivo meraviglioso che ha fatto sognare molti cerignolani, tra cui voi ne avete fatto parte. Mi preme precisare, molti addetti ai lavori hanno detto che per la mancanza di spazi ci volevano molti più spazi nella cerignola che pratica sport. Ecco, lei che cosa si sente? Si sono lamentati all'assessore. Lei cosa si sente di dire in merito? Sport minori come la pallavolo e il basket fino a 5-6 anni fa erano impensabili in una città che viveva solo di calcio, quale Ceregnola. Da 5-6 anni la cosa si è invertita. Questi sono due sport che sia con le prime squadre che come settore giovanile ha dato un grosso boom, una grossa risonanza a livello anche regionale, non solo, quindi Ceregnola non più sulle cronache per cose, per cronaca nera, ma anche per eventi e cose belle sportive. E questo ha creato quindi una limitazione degli spazi sportivi. Quindi l'amministrazione dovrà veramente darsi una scossa da questo punto di vista e dare più disponibilità di strutture. Perché c'è voglia di sport, c'è voglia di sport che non è solo calcio. Io sono un grosso amante del calcio, però da anni mi sono legato a questo sport minore tra virgolette che è la pallavolo. Quindi non parlo come nemico di calcio, parlo come amico dello sport. Quindi non solo calcio, ma anche pallavolo, anche basket, anche danza, perché non è anche pattinaggio. Però l'amministrazione deve dare risposta a questa esigenza importante che Ceregnola. Le volevo fare un'ultima domanda. Per quanto riguarda, invece, lei ha accennato prima al calcio. Ovviamente siamo in estate, come si sente, fa caldo. E siamo in tempo anche di calcio mercato. Lei prima ha detto, nella mia seconda domanda, che comunque non state puntando nomi grossi. Ovviamente non le chiederò di fare nomi, diciamo, per privacy, ovviamente, per le vostre trattative. Però potete assicurare ai tifosi che comunque costruirete una squadra ad alto livello per posizionarvi nelle prime posizioni della classifica? Come già detto, faremo sicuramente una squadra competitiva. Abbiamo contattato ragazze di categoria maggiore per poter allestire e fare una squadra che possa dare più soddisfazione rispetto allo scorso anno sportivo. Però, ripeto, è ancora in una fase sembrionale tutto il nostro discorso del mercato. È il campo, ripeto, è un giudice veramente molto esigente, severo. E quindi dovremmo far conto con lui. Ma noi, come tutte le nostre realtà sportive, sarebbe un po' velleitario o trionfalistico dire che vinceremo, faremo i miei primi posti. Ho visto tanti fallimenti sportivi con squadre molto competitive e non vorrei commettere lo stesso errore, parlando di proclami. Ringraziandola e augurando un bocca al lupo per la prossima stagione. Stefano Pepe, assist sportivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.